Mario Botta, Associazione Pulmino Amico di Casale Monferrato Grazie, Pulmino Amico non può mancare alla fiera di San Giuseppe di Casale Monferrato Pulmino Amico è associazione radicata e viva nel territorio quindi sicuramente non possiamo non essere presenti in questa che è una manifestazione non solo di Casale ma di tutto il Monferrato Pulmino Amico trasporta pazienti oncologici e non in ogni sede di diagnosi e cura del Piemonte e delle regioni vicine in questi ultimi anni, in questo ultimo anno la nostra attività è particolarmente aumentata siamo passati dai 50 viaggi settimanali, siamo arrivati ai 100 viaggi settimanali in alcuni momenti dell'anno, dell'anno appena passato abbiamo superato anche quota 100 è un risultato per noi importante, fondamentale, vuol dire che la popolazione ha considerazione della nostra associazione vuol dire che molti pazienti si rivolgono a noi perché hanno trovato nella nostra associazione dei veri amici e questo è il senso con cui noi lavoriamo e con cui vogliamo avere un rapporto costante con i nostri trasportati non solo solidarietà ma amicizia nel senso vero stiamo su questa strada da lunghi anni, sono ormai 16 anni che siamo presenti nel nostro territorio abbiamo ad oggi 11 macchine, 11 automezzi, siamo in via di trasformazione di parte del nostro parco macchine perché ai noi anche le macchine invecchiano e quindi ci evolviamo e seguiamo il correre e il correre del tempo Pulmina Amico vuole essere sempre presente e vicino alla popolazione, questo è un altro modo l'essere in fiera e un altro modo per essere vicini e presenti alla gente, per farci conoscere per semplicemente anche salutare molti amici che passano davanti al nostro stand e scambiano con noi quattro parole sempre gradite e sempre con il senso dell'amicizia e della solidarietà. Grazie